Cari amici telespettatori abbiamo assistito in questi due giorni a Pallariello sotto l'albero grandissimo spettacolo di Giorgio con tanti ospiti, molta musica da Gianni Morandi a Fiorella Ammanoi e passando poi nella seconda serata per Cristina D'Avena a Gianna Ranini e molti altri ospiti, anche Pirlo e la nazionale para olimpica che va in mondiali, quella è stata la cosa più emozionante della serata insieme a tutti i personaggi di Pallariello, bravo come sempre, grande professionalità e come sempre un numero uno del nostro palcoscenico. Veramente amici telespettatori, mi sono emozionato tantissimo e credo che potrebbe tornare anche l'anno prossimo questo spettacolo. Un abbraccio a tutti i fan di Giorgio e continuate a seguirmi su YouTube. Ciao dal vostro espiante conduttore Samuele.